Stadio Menti sold out, oltre 10.500 spettatori per inseguire il sogno della finale playoff. Quella di ieri è stata una giornata a suo modo memorabile, un'autentica caccia al biglietto con i tifosi bianco-rossi in fila per ore per accaparrarsi un ticket per la semifinale di ritorno di domani sera contro l'Avellino. Ecco le ultime dal Veneto, anche dal punto di vista del piano sicurezza. Non ci sono grandi novità da Vicenza in questa che ha una vigilia ovviamente densa di emozioni e anche un po' di tensione ovviamente perché la questura si è riservata di prendere la decisione di aprire il famoso spicchietto che separa il settore ospiti dai distinti solo nell'immediato pre partita. Quindi chi residente fuori Campania avesse acquistato il biglietto probabilmente solo domani. saprà in quale settore mettersi. Come forse già sapete insomma c'è stata un po' una protesta da parte dei tifosi che sono resident del settore distinti, che sono infedelissime e che non vogliono assolutamente vedere sciarpe e simboli dell'Avellino nel proprio settore. Insomma cosa che mi sembra abbastanza corretta. Un'informazione molto importante che sicuramente interesserà i tifosi è che per loro, i tifosi bianco-verdi, è che per loro è riservato il parcheggio di Vicenza Est da cui poi verranno accompagnati allo stadio con i mezzi pubblici. Due giorni di riposo in più di questi tempi possono fare la differenza. Ecco perché il Vicenza, che domani affronterà i lupi almenti, potrà farlo sicuramente con qualche energia in più rispetto a quelle che i bianco-rossi hanno potuto mettere in campo all'andata al partenio Lombardi. Stefano Vecchi per una partita in cui l'Ane deve provare a premere con maggior costanza, alla metà campo avversario potrebbe riproporre nel 3-5-2 Pellegrini al fianco di Ferrari e valutare l'opzione Talarico sulla fascia destra. Tronchin invece difficilmente ce la farà a centrocampo, ancora Greco con Ronaldo con Rossi pronto anche per un cambio di modulo.